Il monumentale, insomma, più o meno, quindi di più o di meno, però sono tutti molto belli. Ci ha messo la rete, ma ce l'ha fatto andare dentro lo stesso. Allora, ecco, guarda, Giovanni, dove sta Giovanni? Quello è Antonio, penso, un bambino. Eh no, Giovanni Bolzini, il 39, eccolo. Il 39, guarda lì sotto. Il 39, dove sta? Qua. Ah, quindi è quella parte là? C'è quella parte di là andando fuori dalle mure, cioè tornando fuori andando di là. No, è in mezzo, è dietro la chiesa. Noi siamo qui. Da destra, vedete qui? Noi siamo qui. Eh. Questo è fuori. Ah, è fuori? Dall'altra parte. Allora, fai, ma che guarda. Ci c'è anche. Ci sono tutti qui a destra. Allora, però c'è il primo monumento a Giovanni Bolzini. Quanti diem hanno? 41, 41, 41 stombola col 41 bombola col 41 Grazie a tutti. Grazie a tutti.